Due diciottenni sono morti in un incidente stradale la notte scorsa sulla statale 166 degli Albuni a Roccadaspide in località Difesa. Erano due amici di Roccadaspide ed entrambi di 18 anni, Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto. Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe trattato di un violento scontro tra la lancia Y sulla quale viaggiavano i due amici ed una BMW 320d con una coppia di medici di Castel San Lorenzo, feriti, gravi e trasportati d'urgenza all'ospedale di Battipaglia. Super lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, diretti dal caposquadro Alfonso Di Pace, che hanno tagliato le lamiere dell'auto per permettere i soccorsi. Purtroppo per i due diciottenni tutto è stato vano. A svolgere le indagini militari dell'aliquota radiomobile della locale stazione, coordinati nei rilievi del caso dalla compagnia di Acropoli e gli ordini del capitano Francesco Manna, il magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Sarenno ha fatto svolgere l'esame esterno sulle salme.